Gli verrà? Vencerà? Gli verrà? Vencerà, cretino! Santo cielo, feriti? No, sì, lo sai che non ci sono proprio... È assurdo, non si può rischiare la vita ogni mattina per buttare una letta. Senti, l'ho promesso che l'avrei fatto. Vado a dire, se... Guardalo, compagno. Se quella poveretta sapesse che vuole il famo, però è sempre bello. Che vergogna. Assediare l'essere presi per farlo. È bene. Non c'è nulla di più complicata di questo assedio di avanza. Noi assediamo avanza. Nel frattempo, gli spagnoli assediamo avanza. Siamo in tanti. E mi devo pure svegliare queste affamate. Forza Gretti, in piedi! Il sole è già alto e gli spagnoli non aspettano che noi! Non volete mica fargli aspettare? Giù, scopri! Che fame, che seduta. Sì, scopri! Insomma, che c'è? Che cos'è questo passo strascitato, eh? Ho qualcosa che mi vedono i talloni. Ah sì? E che cosa? Lo stomaco. Anche io ce l'ho. E non c'è pena? No, mia leggete c'è. E io ai dentini? Bene, morteremo in battaglia. E io ho venduto lì su un tamburo. Non saremo per sonarci la carta. Io ho una fame da cavallo. E allora, mordi il freno. Battuta, è sempre battuta. Sì, battuta. È così che vorrei poter morire. In una sera, illuminata d'oro. Poter morire pronunciando una bella battuta per una buona calda. Essere colpito al petto, dalla spada di un errore. Lontano dal letto rimalato, su un prato di gloria. Poter morire così, sì. Con la lama di il cuore. È una battuta sull'alto. Buongiorno, signori. Ah, è vero. Mi hanno detto che voi cadetti non perdete l'occasione per deridervi. Comunque, ieri, il maresciallo, per farci avere qualche rifornimento, ha tentato un colpo decisivo. Però, per poter tornare a casa, sarò il salvo, ha portato conseccanta truppa. Quindi, se il nemico lo venisse a sapere, sarebbe un leggero truppo del palco. Beh, effettivamente. Ma il vero problema è, lo sa o no? Eh, sì, lo sanno, lo sanno. Come lo sanno? Sì, sì, stanno giusto per l'attaccato. E quando? Sarà tra un'ora, penso. Un'ora? Eh, bisogna guadagnare del tempo, capitano. E come facciamo guadagnare del tempo? E maresciallo sarà per tornare. Dovete farmi il favore di farvi massacrare. Come scusate? Dovete farvi il favore, virgola, capitano, virgola, di farvi massacrare. Tutti. Una, due, tre, tutti. Questa quindi sarebbe la vostra vendetta? Capitano non sono io che ho scelto lei e i suoi uomini. Però, siccome avete saputo che voi siete il più valoroso di tutti, io, servendo il mio rancore, servo anche un mio re. Permettetemi di essere liberati. Ma sicuri, guardi, eh? Mi arretto che mi piace battervi solo 400 uomini. Voi non dite di non averne avuto l'occasione.